Parte oggi a Ravenna Art&Choc, la manifestazione dedicata ai golosi, dei gazebo allestiti in piazza del popolo infatti. Fino al 14 novembre i maestri cioccolatieri proporranno assaggi e vendite di delizie e specialità al cioccolato di ogni genere. Il tour 2010-2011 dei maestri cioccolatieri che provengono da molte delle regioni italiane, dal nord al sud. È un tour che è iniziato la scorsa 15 giorni fa ad Aosta, la scorsa settimana siamo stati a Grosseto, adesso siamo qui a Ravenna per la tappa più importante dell'intero tour, per poi essere a Padova fra 15 giorni, successivamente a Teramo, Livorno e Cremona a concludere il 2010. Poi la seconda parte del tour inizierà a Maestra in provincia di Venezia a febbraio, per proseguire ad Asiagu in provincia di Vicenza, a Molfetta in provincia di Bari, a Pesaro, a Salò in provincia di Brescia sul lago di Garda, per concludere all'isola d'Elba, Porto Ferraio prima di Pasqua. È sempre stata un'arte per noi artigiani, anche perché ci differenziamo proprio dall'industria in questo senso. Per loro c'è la quantità, per noi c'è la qualità, ma non qualità nel senso di scadenza di prodotto, la qualità nella varietà dei prodotti. E per noi, io uso le parole che disse il mio maestro quando iniziai i primi anni, il cioccolato è un blocco, tutto il resto è arte e fantasia. Per fare, non lo so, una caffettiera di cioccolato, quanto tempo occorre? Ci voglio abbastanza tempo, perché non è quanto sformare lo stampo, cioè dalla temperatrice dove noi sciogliamo il cioccolato, è dargli la cristallizzazione che ha bisogno di tempi più lunghi, per cui abbiamo bisogno di tanto tempo. In effetti tutta la lavorazione della nostra produzione ha bisogno di molto tempo, ci chiede molte ore di lavoro, molto sacrificio e dobbiamo solo amarlo per poterlo fare.